Nasce a Napoli all'inizio del Novecento. La madre attrice Clelia Gaioni e il padre Raffaele Genovese suggeritore in palcoscenico, lo fanno crescere nell'ambiente del teatro. Sino a farlo debutare, ancora bambino, nella popolare compagnia di Gennaro Pantalene e Adele Magnetti, dimostrando un precoce talento comico, che lo porterà a 17 anni a prendere la decisione di divenire attore professionista, entrando in diverse compagnie di spettacoli napoletane. Alla fine degli anni venti recita con Vincenzo Scarpetta e Raffaele Viviani, dove mette in mostra doti di improvvisazione non comuni. Il debutto davanti alla cinepresa è datato 1938, con la direzione del regista Ableto Palermi nella pellicola Napoli che non muore che costituirà, l'inizio di una carriera cinematografica, dove interpreterà quasi sempre parti di loschi individui, in drammoni di ambiente napoletano. Anche se girati a Roma, nel 1942 dopo aver superato un concorso a Leiar, lavorerà alla radio presso la sede di Milano, nel dopoguerra a Edoardo De Filippo, nel ricostruire la sua compagnia. Si ricorda di lui e lo scrittura per una serie di commedie, che saranno trasmesse anche dai microfoni della radio, e successivamente appariranno sugli schermi televisivi. Tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60, riprende a recitare nei teatri napoletani in alcune sceneggiate, tipico spettacolo dove diventa protagonista lo stesso pubblico presente, interpretando spesso la parte di cattivo. O malamente, in televisione interpreta, in varie puntate, la parte dell'usciere Leopold nelle inchieste del commissario Maigret, con la reggia di Mario Landi. Muore a Napoli, dopo lunga malattia nel 1967.